Cari telespettatori bentornati, occhio al voto, il programma di informazione politica locale di Fano TV. In questa ottava puntata ospitiamo altri tre candidati al Consiglio Comunale di Fano. Per la coalizione di centro-sinistra è presente Barbara Brunori della lista Noi Civiche Fano a supporto del candidato a sindaco Cristian Fanesi. Per la coalizione dei progressisti per Fano 2050, Mattia De Benedittis del Partito Socialista Italiano che sostiene la candidatura a sindaco di Stefano Marchegiani. Benvenuto per il centro-destra Davide Del Vecchio di Fratelli d'Italia che appoggia il candidato sindaco Luca Serfilippi. E il benvenuto anche al giornalista Massimo Foghetti. Andiamo subito a conoscere meglio i candidati. Partiamo da Barbara Brunori, diplomata all'Istituto Magistrale Giosuè Carducci, è impiegata in una società cooperativa attiva nella grande distribuzione organizzata, dove si occupa di progetti di eccellenza, tanto che nel corso del suo percorso professionale ha maturato e assunto in modo crescente una maggiore responsabilità di ruolo e mansioni. Ama leggere e viaggiare e preferisce gli sport all'aperto. Brunori è stata vicepresidente del Consiglio Comunale dal 2014 al 2019. La padronanza gestionale e organizzativa acquisita in ambito lavorativo le ha permesso di mettere la propria esperienza a disposizione della città. Le capacità personali e l'inclinazione alla gestione delle risorse umane le consentono di poter affrontare le problematiche riferite al proprio mandato amministrativo. Mi sono sempre contraddistinta per un radicato senso di responsabilità, ha precisato, oltre che ad un controllo molto puntuale di ogni cantiere e di ogni opera realizzata. Faccio dell'ascolto e del dialogo con tutti i mondi della città una mia peculiarità con l'obiettivo di raggiungere i risultati prefissati. Lavorare in rete in sintonia con tutti i soggetti interessati, aggiunto, ha fatto in modo che la città cambiasse volto e potesse vivere una crescita importante con forte radicamento ai valori e alla tradizione della comunità. Brunori è assessore alla resilienza urbana e mobilità sostenibile, decoro urbano che comprende verde pubblico, illuminazione pubblica, standard operativi, servizio di igiene ambientale, sport e opportunità nuove generazioni. Barbara chiude la sua biografia con una citazione di Tolstoi, se vuoi essere universale parla del tuo villaggio. E passiamo a Mattia De Benedittis, 35 anni, nato a Milano ma naturalizzato nelle Marche. Vive a Fano dall'età di 9 anni e lavora a Pesaro come impiegato amministrativo in un'azienda di produzione chimica. Già capogruppo in Consiglio Comunale di Noi Giovani nel mandato 2014-2019, con delega alle politiche giovanili, ha ricoperto il ruolo di presidente della Commissione Bilancio e membro della Commissione Lavori Pubblici, Garanzia e Controllo, e Commissione Speciale di Indagine sull'Aeroporto. Nel 2018 ha aderito a Volt Europa, movimento politico paneuropeo presente in tutti gli stati membri dell'Unione Europea e in Parlamento Europeo. De Benedittis ha ricoperto la carica di responsabile regionale di Volt fino al 2023, per poi dedicarsi al ruolo di responsabile di Volt Fano. Attualmente ricopre per il Comune di Fano la carica di consigliere d'amministrazione di AES Fano Gas ed è stato candidato a ricoprire la carica di consigliere d'amministrazione di AES SPA. In questa tornata amministrativa è candidato in consiglio comunale tra le fila del Partito Socialista Italiano come capolista insieme a Tiziano Busca. De Benedittis ha lavorato e continuerà a lavorare per tutelare l'ambiente, lo sviluppo sostenibile e le esigenze dei giovani. Inoltre l'obiettivo, ha dichiarato, sarà quello di garantire una politica che promuova trasparenza e giustizia per riportare fiducia nelle istituzioni pubbliche e affrontare le complesse sfide climatiche e socio-economiche che ci attendono. Chiudiamo questo ciclo con Davide Del Vecchio, 57 anni, di professione imprenditore. È sposato con Lorena ed è padre di due figli, Maria Vittoria e Gianmarco. Da anni dedica la sua vita professionale all'imprenditoria, ma al contempo ha sempre sentito forte il richiamo del servizio civico e del volontariato per la nostra comunità. Ha praticato sport dilettantistico nel calcio, è appassionato di windsurf, pratica snowboard e IMTB mountain bike. Ho avuto il privilegio di servire Fano in diversi ruoli amministrativi, ha precisato Del Vecchio nella sua biografia, partendo dalla gavetta negli anni 90 come giovanissimo consigliere di circoscrizione. La passione per la politica ha proseguito, mi ha portato all'elezione nel 2004 come consigliere comunale, mentre dal 2007 fino al 2014 ho ricoperto il ruolo di assessore ai servizi sociali e presidente del comitato dei sindaci dell'ambito sociale 6. Un'esperienza che mi ha arricchito, mi ha permesso di comprendere a pieno le esigenze della nostra comunità e le potenzialità della macchina amministrativa. Nel 2014 sono stato candidato sindaco di Fano per il centrodestra e ho svolto il ruolo di consigliere comunale fino al 2019. Per amministrare una città complessa e importante come Fano, a concluso Del Vecchio, servono competenza e una visione chiara di quello che in futuro dovrà essere la terza città delle Marche. E queste le biografie degli ospiti di questa sera. Ora Massimo passiamo alle domande, prego. Sì, pensavo di introdurre la nostra conversazione con un argomento che è congeniale a tutti e tre i nostri interlocutori, ma soprattutto anche che è congeniale alla sensibilità dell'elettorato fanese che è cresciuta moltissimo in questi ultimi tempi, quella dell'ambiente. E lo dimostrano le rimostranze relative all'abbattimento degli alberi in Viale Cheiroli al posto del sottopassaggio. Ne costituiscono un esempio, ce ne sono poi tante tanti altri come l'amentele per le portature troppo drastiche, le piantumazioni che si sono rinsecchite, gli alberi tagliati che non vengono sostituiti. Pensate che solo in Viale Italia ce ne sono 40 tagliati e sono alberi di grossa taglia, non so se sono tiglio, platani, insomma cose del genere, che non sono stati sostituiti. E poi ci sono anche piantumazioni sbagliate con specie non autoctone, il parco dell'aeroporto che ancora tarda a venire alle luce, una città ovviamente verde e più bella e più salubre. Allora io vi chiedo cosa pensate di gestire questo aspetto di natura ambientale che coinvolge sempre più l'elettorato fanese. Vi direi di cominciare da Barbara Brunori. Grazie. Che il verde sia un elemento indispensabile e fondamentale nella creazione di spazi urbani, questo ne sono pienamente consapevole, tanto che in questi anni ci siamo applicati per mettere a dimora 7.000 piantumazioni al di là del percepito. Abbiamo approvato finalmente un regolamento del verde urbano, cosa che prima non era mai venuta alla luce, un regolamento che oggi va appunto a regolare tutte quelle dinamiche che girano attorno al verde e che spesso non trovano una miglior concertazione, a partire dalla formazione degli operai che naturalmente sono al taglio del verde, perché spesso sono state fatte delle portature un po' troppo incisive e appunto per migliorare un po' quello che è la qualità del servizio e anche della gestione abbiamo approvato questo regolamento. Abbiamo fatto ancora di più perché è stato redatto un piano di forestazione proprio per mettere a disposizione tutte le aree all'interno della città per mettere appunto nuove alberature. È chiaro che per quanto riguarda l'opera del sottopasso di Viale Cairoli dove c'è stata una forte animazione della città, ci sia un problema vero. Ogni volta che si decide di fare un'opera è naturale che ci sia il sacrificio di qualcos'altro. è immaginabile e augurabile per l'amministrazione e per qualsiasi amministratore che va a svolgere un lavoro quello di riuscire a mitigare quest'opera e di migliorarla. Cosa che questo progetto che nasce da RFI, quindi c'ha anche un valore importante di risorse perché parliamo di un investimento di 2 milioni di euro di cui l'amministrazione ne metterà a disposizione 500, è chiaro che vuole fare la cerniera a quello che è il centro storico ma nello stesso tempo anche al lungomare e dare dignità, è un'opera dignitosa perché renderà fruibile quello spazio anche alle persone che hanno delle disabilità e che purtroppo oggi non riescono ad attraversarlo. E diventa anche uno spazio importantissimo per il sistema della sostenibilità. È chiaro che va migliorato e quindi la sovrintendenza dovrà assolutamente darci delle prescrizioni per riuscire. Benissimo, sentiamo cosa ne pensa De Benedittis. Allora, in premessa bisogna ricordare che finché cresce l'erba significa che il terreno è in salute, questo dobbiamo ricordarcelo ogni volta che scoppiano delle polemiche che sono legittimate nella misura in cui bisogna intervenire su questioni di sicurezza che a volte l'amministrazione non sempre garantisce in tempi celeri. Lo dico perché viviamo purtroppo in un momento storico in cui potremmo rimpiangere la crescita dell'erba. Detto questo, bisogna anche saper condividere con l'opinione pubblica quelle che sono le necessità di un territorio, quindi capire dove possono essere fatte le piantumazioni, come bisogna intervenire, perché? Penso per esempio una chimera che sta colpendo il nostro territorio è quella del cancro colorato del platano per l'appunto. Di conseguenza significa che se un albero è malato purtroppo bisogna intervenire, ma bisogna spiegarlo all'opinione pubblica, bisogna spiegarlo ai cittadini per fargli capire. Parliamo comunque di una questione complessa che va spiegata e l'amministrazione, nonché la politica, è lì per quello. Detto questo, sì, sicuramente è importante garantire l'accesso alla città a tutti. È stato importante quello che è stato fatto con il regolamento del verde, il quale anche AS ha sfruttato attraverso un piano di piantumazione, una compensazione ambientale in zona di Monteschiantello, che va proprio in questa direzione, cioè garantire un terreno più salubre, garantire anche sicurezza, perché sta comunque in una zona scoscesa che può creare dei problemi alla viabilità. Quindi, secondo me, se si fanno questi interventi, se sono garantiti questi interventi con la giusta comunicazione, la cittadinanza risponde in maniera positiva. Bene, del vecchio. Intanto il verde pubblico comunque è fondamentale per la comunità, per il buon vivere, per la qualità della vita in generale. C'è stato, tra l'altro, ho letto uno studio poco tempo fa, una sorta di sondaggio che ha fatto l'Istat a livello europeo e sta aumentando sempre più una consapevolezza nei cittadini, non solo quindi italiani, ma di tutta Europa, che appunto la salvaguardia del verde, in particolar modo anche nelle città, è un aspetto fondamentale per, come dicevo prima, la qualità della vita dei cittadini. Nello specifico, se dobbiamo andare a discutere dell'intervento, del sottopasso di Viale Cairoli, è chiaro che, secondo me, andava prima condiviso con i residenti e la comunità che è lì presente e con le attività commerciali che operano in quella zona. Questo però deve essere un modus operandi dell'amministrazione in generale, non solo sul dato specifico di Viale Cairoli. Ormai si va verso un'amministrazione condivisa, non più un'amministrazione dove la decisione viene presa all'interno del palazzo e basta, ma ci deve essere una condivisione delle scelte. I cittadini sono più informati, ci sono i social, per cui è difficile, tra virgolette, prendere decisioni sulla testa dei cittadini. Quindi un'amministrazione condivisa doveva andare a prendere decisioni di quel tipo considerando appunto le esigenze di quei residenti e di quelle attività commerciali. Ed è quello che andremo a fare noi anche attraverso le istituzioni dei consigli di quartiere ai quali bisognerà dare una vita, perché tra l'altro in dieci anni dell'attuale amministrazione non si è riusciti a portarli a termine. Io ho fatto il consigliere di circosizione e devo dire che è stata un'esperienza bellissima da giovanissimo che ha portato tanti frutti ai nostri quartieri. Quindi sì, va condivisa una visione della città che guardi appunto a questo aspetto e va resa possibile, laddove si riesce, attraverso il piano regolatore generale, lo vorrei ricordare, di creare proprio delle zone ad hoc per il verde urbano. Bene, passiamo ad un'altra domanda, comunque una piccola aggiunta, ritenendo che quel progetto di Viale e Cairoli era di interesse di tutta la città, andava condiviso magari con tutta la città e non solo con i residenti appunto di quella via che magari hanno degli interessi particolari. Però volevo approfondire il tema, il tema ambientale connesso con l'efficientamento energetico. Non di rado questo tema è connesso con lo sfruttamento delle energie rinnovabili, il che crea problemi. Certo che, per esempio, la realizzazione delle pale eoliche sul sasso Simone e Simoncello fa veramente rizzare i capelli sulla testa. Ma anche la distesa dei pannelli solari in campagna, al posto dei campi di grano, di vigne, degli oliveti, non è da meno. A Carrara, per esempio, tu lo sai bene Davide, si paventa una cosa simile, mentre l'efficientamento energetico in città crea veramente timori e preoccupazioni. Cosa ne pensate di questo connubio, di questo contrasto? Vi direi di passare la parola subito a De Benedittis. Sicuramente coltivare pannelli solari è più redditizio di coltivare il grano. Questa problematica ci ha riguardato già parecchi anni fa, dove la polemica era arrivata fino a Bruxelles, riguardava principalmente la regione Marche e la regione Puglia, dove sono stati fatti interventi con poca disciplina, diciamo così. Però sono una possibilità importante che guarda al futuro. Allora, facciamo sempre riferimento al fatto che le decisioni devono essere condivise, i provvedimenti devono avere il massimo della trasparenza, anche per garantirne l'efficienza, perché trasparenza significa anche tenere lontani certi progetti, anche da malavita, da situazioni poco piacevoli. Quindi quello aiuta sempre. Detto questo, l'opinione pubblica è diventata appunto molto sensibile sul tema. Ciò significa che bisogna anche spiegare che determinati interventi si fanno dove ci sono le possibilità, cioè i pannelli solari si fanno dove c'è più esposizione al sole, le paleoliti, che sicuramente non sono l'unico intervento per quanto riguarda i flussi del vento, devono essere fatti in determinati posti, eccetera. Però bisogna farli, penso anche alla questione del digestore. Questa è la direzione che devono prendere le città per il prossimo futuro e le città saranno protagoniste di questo cambiamento, che riguarda l'intero pianeta, partirà dalle città. Ed è importante che le amministrazioni pubbliche siano assolutamente favorevoli e sappiano portarci verso questo tipo di politiche, saperle condividere con i cittadini e creare quelli che sono nuovi paradigmi di sviluppo, più sostenibili e che possano dare possibilità a tutti i cittadini e tutte le cittadine. Abbiamo menzionato Carrara, quindi del vecchio a te la parola. Intanto, premetto, io non sono contrario, no? Verso le energie pulite, fotovoltaico piuttosto che eolico. Però ci deve essere un criterio. La sensibilità ambientale della quale parlavamo prima va applicata anche in questo caso. Nello specifico, per esempio, sulle campagne delle nostre periferie, che hanno delle coltivazioni storiche, lo vorrei ricordare, un libro di Valentino Valentini, con un apporto anche del qui presente Foghetti, parlava del Cavolfiore dall'Ottocento, presente su quei terreni, su quei territori, dove vogliono installarci dei grandissimi campi di fotovoltaico o agrivoltaico. Ecco, noi, attraverso, mi sono attivato proprio direttamente, attraverso anche Lucas e Filippi, abbiamo introdotto nella nuova legge regionale che è stata emanata adesso a marzo un emendamento che hanno chiesto un po' tutti i cittadini della zona per far sì che nei luoghi dove ci sono coltivazioni storiche questi tipi di campi fotovoltaici, ma non solo, perché peggio ancora dei campi fotovoltaici, ci sono le centrali di accumulo BES, che sono delle centrali di ettari, di batterie, di macchinari da zona industriale, oggettivamente, che non possono essere ubicati nelle nostre campagne. Ecco, abbiamo fatto fare questo emendamento da Lucas e Filippi, è stato approvato, e quindi qualcosa già per, in qualche maniera, contrastare queste decisioni, non proprio, no, green, andava fatto ed è stato fatto, così come abbiamo scoperto qualche anno fa quel mega impianto fotovoltaico a Carrara di sei ettari con centrale BES da due ettari, che abbiamo bloccato anche grazie al sindaco, in questo caso, quindi lo ammetto perché me ne sono veramente accorto io a dire la verità, perché era un progetto del ministero, l'abbiamo bloccato col sindaco, con la provincia e con la regione, e oggi quella assurdità che veniva fatta alle nostre colline, che era uno scempio, è stata fortunatamente bloccata. Quindi sì, bisogna avere molta attenzione, ma non essere contrari, ci sono i tetti, ci sono le zone industriali, ci sono le case future che costruiremo. Bene, la parola adesso a Barbara Brunori. Allora, che ci sia la necessità naturalmente di implementare quello che è il discorso dell'energia, questo è palese, lo abbiamo visto anche nell'ultimo tempo storico col costo che è aumentato, e anche quanto è stato difficile per l'amministrazione poi sopperire a costi e rimettersi in discussione. Le energie rinnovabili sono fondamentali, condivido adesso con Davide Del Vecchio la necessità di avere una certa sensibilità rispetto a terreni agricoli piuttosto estesi, dove si fanno delle coltivazioni particolari, ma è che si riempiono un po' tutti i tetti della città, della periferia, delle fabbriche, delle scuole, quindi lavorare anche su tutto quello che è i piani, tanto che come amministrazione abbiamo anche presentato un progetto lungimirante, che è un progetto di una taratura di carattere nazionale, uno dei più grandi, per una copertura di 650 kilowatt per 12 edifici pubblici. Questa è una cosa veramente straordinaria, che solo adesso, grazie alle deroghe che sono state approvate dal governo, potremo veramente accedere, e non solo, un efficientamento importantissimo che abbiamo fatto in città, una visione lungimirante che in questi anni ci ha permesso, con l'istituzione dell'ufficio, anche Energia, di riuscire ad ottenere un finanziamento di 1.610.000 euro, più tutto il relamping che vedete che stiamo facendo in città, che è un altrettanto valore di 3 milioni, non si parla di numeri, si parla di benefici che entrano poi veramente nella qualità del vivere, oltre che nelle tasche di tutti i cittadini, perché ognuno di noi ha un costo che deve supportare all'interno anche delle loro abitazioni in funzione di quella che è la vivibilità familiare. Quindi devo dire che occorre assolutamente perseguire in questa direzione quella di attingere più finanziamenti possibili proprio per andare a lavorare sia nel pubblico che nel privato, perché ci sono delle risorse disponibili in senso ampio. E quindi ecco, noi stiamo assolutamente per potenziare questa linea di lavoro, un ufficio che è stato davvero straordinario. Passiamo ora ai lavori pubblici, si è discusso molto in questi mesi dei cantieri in corso, soprattutto in zona mare, ma quello che vorrei chiedervi stasera è cosa farete una volta dal governo della città. Quali sono le priorità e quali gli altri luoghi che necessitano di una riqualificazione? Per questa risposta avete tre minuti di tempo, del vecchio partiamo da lei. Intanto vedo che c'è stata molta fretta nell'allestire i cantieri negli ultimi mesi e la fretta con i lavori pubblici non vanno proprio d'accordo. Per cui molti cantieri oggi sono aperti, sono stati sbagliati i tempi, Biale Battisti, piuttosto che la Sassonia, Amfitatro Rasta, piuttosto che il lungomare di Torrette, ne cito alcuni. Io capisco che ci sono le elezioni, ma così come quanto c'è il Giro d'Italia vengono asfaltate un po' di strade, non può essere solo quella l'occasione per asfaltare un po' di strade. Ci deve essere una visione vera della città, una visione che guarda al complesso tra l'altro della città e non solo ad alcuni luoghi e la visione della città deve essere uniforme. E quando si vanno a fare i lavori pubblici devono essere indicati soprattutto agli operatori economici nello specifico del lungomare i tempi, perché rischiamo che, ad esempio, con il cantiere dell'Ampitatro Rasta piuttosto che con quello di Torrette, che molti operatori non riescono quest'anno a lavorare e quindi a mettersi in moto per il periodo estivo. Siamo arrivati praticamente a giugno e ancora è tutto in fieri. Ecco, secondo me uno degli aspetti che riprendo il discorso di prima che bisogna affrontare è appunto quello, un'amministrazione condivisa. Bisogna essere più aperti alla società, bisogna essere più aperti alle attività imprenditoriali, capire le esigenze, concordare con loro e le attività da fare, anche nel campo dei lavori pubblici. Abbiamo tanti lavori da mettere in atto nell'ambito dei lavori pubblici, Barbara Brunori, che qua sa benissimo che è un settore, quello dell'assessorato dei lavori pubblici, estremamente complesso e ampio, però ci sono molti lavori e investimenti da fare, ad esempio, nelle attività dei cimiteri, per esempio. Io ho avuto tantissime richieste di interventi da cittadini che vorrebbero i propri cari a ferretto piuttosto a carociano e che invece sono costretti a inumarli a terra. Cioè, la società, una società, si riconosce anche da come tratta i propri cari e dal ricordo che ne ha e sistemare, fare nuove strutture all'interno dell'apparato cimiteriale è uno di questi aspetti. Piuttosto che, se dovessimo tornare, alla variante di Gimarra, una di quelle investimenti strutturali, strategici della viabilità fanese che i lavori pubblici dovrebbero portare avanti, ma di certo non spaccando mezza collina e tra l'altro andando poi a finire subito dopo Gimarra. Quindi, praticamente inutile per il traffico di attraversamento della città. Molto più utile sarebbe una vera tangenziale come ce l'ha il Comune di Peso e il Comune di Senigallia. Basta di fare la città Cenerentola. Noi siamo la terza città delle Marche. Dobbiamo pretendere una tangenziale che parta da Pesaro e arrivi a Senigallia così come l'hanno le altre città. Questo è quello che noi porteremo avanti come obiettivo. Parlo della viabilità, potremmo parlare anche di interventi pubblici di altro tipo, ma ho terminato il tempo. Grazie, Bruno. Passiamo a lei, tra l'altro, come ricordato da Delvec e questo proprio settore da lei seguito. È la mia materia, quindi Davide mi dà l'occasione anche per rispondere. Non c'è stata alcuna accelerazione rispetto allestimento dei cantieri, sicuramente Delvecchio non conosce le dinamiche dei finanziamenti ministeriali che nel suo periodo non erano stanziati, ma ci sono delle regole molto ferre e dei tempi che bisogna rispettare, tali per cui noi abbiamo cercato di riuscire a garantire il finanziamento, l'opera, nei tempi rispettati. Dopodiché, spessissimo, lo vediamo, ci sono cantieri con problematiche legate ai prezzi che cambiano, alle ditte che non sono affidabili e a tante varianti che succedono anche in corso d'opera durante la lavorazione. È vero, noi abbiamo fatto un lavoro straordinario perché 340 milioni di euro in dieci anni è una cosa mai vista in questo comune che ha decisamente sovraccaricato la macchina pubblica e in questo caso ha penalizzato in alcune situazioni anche una manutenzione di carattere ordinaria. Questo lo riconosco sulla base di un'esperienza che ho vissuto da vicino, ma cercare veramente di non perdere delle occasioni per far crescere una città delle Marche che non è una cenerentra, ma è veramente una città, è la terza città delle Marche per cui stiamo veramente facendo di tutto in una crescita culturale di spazi, di qualità del vivere. È un percorso che si è avviato e vedrete che in questi mesi arriveranno anche tante altre opere che devono partire proprio perché abbiamo cercato di ottimizzare degli interventi anche all'interno del centro storico per non dar fastidio alle attività. Pensate bene che la Fontana della Fortuna non l'abbiamo iniziata proprio perché andava ad interagire su un mercato cittadino con i lavori che ci sono alla Piazza Andrea Costa piuttosto che quelli che ci sono aliti piuttosto che quelli che dovranno partire al Casottino del Pincio come vedete un ascolto della città e un'attenzione particolare c'è sempre pensate che in Piazza Andrea Costa partiremo con i lavori anche all'interno della pescheria proprio concertando tutto l'intervento con tutte le attività che sono lì all'interno quindi che non ci sia stato un dialogo no che ci siano delle difficoltà sì che ci siano 150 milioni di opere che devono uscire ancora oggi sì quindi come potete ben capire ci sono delle difficoltà operative ma la volontà è quella di far crescere la visione è una visione che va verso anche un potenziamento una valorizzazione di quelle che sono i cratri identitari della città se pensiamo al museo del carnevale che verrà su Liti se pensiamo al museo della marineria che verrà appunto su Alex Manfrini nella riqualificazione di spazi pubblici ma anche all'interno della periferia perché ci servono degli spazi che diventano anche delle community hub all'interno dei quartieri dove appunto la socialità dei quartieri possa rinascere che il tempo del covid purtroppo ha fermato e rallentato nello stesso tempo ha dato uno stimolo positivo perché come abbiamo visto anche attraverso il bilancio partecipato abbiamo avuto degli ottimi consensi e risultati Di Beneditti spassiamo lei stessa domanda quali sono le priorità allora è difficile stilare una priorità in una città di 60.000 abitanti dove ogni quartiere ha bisogno di interventi che riguardino la riqualificazione che possano migliorare il tenore ambientale nonché quello sociale perché anche rispetto alla questione sicurezza che di solito viene riportata in auge la questione ambientale della riqualificazione genera comunque situazioni migliori proprio dal punto di vista sociale psicologico per non solo per le giovani rigenerazioni ma per tutte le persone che abitano in quel territorio perché non si sentono abbandonate perché sentono che comunque sia c'è una vicinanza dell'amministrazione pubblica che sappiamo bene dove non si sente la vicinanza dell'amministrazione pubblica dello Stato in quei casi si crea sempre qualche diciamo Stato alternativo qualche organizzazione alternativa che possa garantire i cittadini così come magari non è riuscito a fare il pubblico detto questo i lavori a ridosso della fine delle elezioni sono diciamo una moda che insomma ci accompagna anche dai tempi di Aguzzi quindi insomma ma non non riguarda nemmeno solo la nostra città secondo me c'è sicuramente questo problema perché comunque bisogna saper valutare che tipo di interventi portare avanti perché comunque sono molto stressanti sono molto stressanti per quanto riguarda insomma le persone che abitano quella determinata zona per quanto riguarda comunque la viabilità per la gente che va al lavoro eccetera certo è che ci sono situazioni e su questo volendo insomma si può giustificare qualsiasi amministrazione interventi che vengono appunto da finanziamenti che possono essere ministeriali europei quelli hanno dei tempi hanno dei tempi significa che hanno anche una scadenza quando c'è una scadenza non si può guardare l'otto giugno o altre insomma o altre scadenze bisogna bisogna intervenire un'amministrazione intelligente un'amministrazione che sa intercettare queste possibilità sa spiegarle come dico sempre all'opinione pubblica sa agire con concertazione e da quello anche possibilmente costruire una prospettiva di città perché questo secondo me è importante cioè sapere che direzione può avere una città che ha sempre avuto una vocazione manufatturiera una vocazione turistica e secondo me dobbiamo continuare a far coesistere queste realtà perché io ho sempre visto Fano come una città poliedrica una città dove non si fa una cosa e basta è una città aperta a tutto a tutti e anche a tutte le possibilità economiche che i lavori pubblici aiutano a stimolare c'è un certo riavvicinamento tra i progressisti e il centro-sinistra mi sembra questa idea ci sta tessendo qualcosa di particolare vabbè allora io faccio una provocazione ma rimanendo sempre in tema allora se chiedo all'assessore Brunori se Fano è bella probabilmente mi risponde di sì se lo chiedo a Davide Del Vecchio che risiede a Carrara mi dice che ci sono ancora molte brutture e se lo chiedo invece a De Benedictis probabilmente mi risponde che c'è troppo cemento adesso non so se ciò azzeccato comunque non voglio sostituirmi a voi ma per riqualificare il decoro urbano quale sarebbe la vostra priorità in questo senso a questo punto io passerei la parola subito all'assessore Brunori beh il mio slogan di questo mio mandato è stato bello ogni giorno bello ogni giorno la dice lunga bello ogni giorno significa davvero che ci vuole una manutenzione ordinaria costante non lo dico così noi lo siamo quando c'è una manutenzione delle strade dei marciapiedi degli spazi che noi percorriamo ma nello stesso tempo anche una qualità del vivere che passa per una pulizia della città non solo del verde ma anche delle isole ecologiche quindi anche un atteggiamento del cittadino rigoroso la differenza la facciamo anche noi ognuno di noi io lo dico con cognizione di causa perché ho avuto la possibilità di capire che molte cose che potrebbero essere migliorate partono proprio da un atteggiamento di civiltà all'interno del nostro perimetro di casa già tenere pulito quello spazio aiuterebbe il comune e la città ad essere belle ogni giorno e quindi ecco è un impegno che ci siamo presi sono già pronta anche per riorganizzare le squadre che ce le rigireremo di PNRR in funzione di quest'ottica su tutti gli edifici comunali quindi ci siamo De Benedittis quale priorità per il decoro quindi? Personalmente condivido la tesi che la bellezza salverà il mondo penso anche che il verde è bello se è in salute quindi rispetto anche alla questione del rapporto verde-cemento bisogna anche saper valutare dove può essere dove si può intervenire con del verde perché purtroppo siamo stati fagocitati dall'idea che il verde sia come un soprammobile gli alberi non sono soprammobili sono qualcosa di vivo sono qualcosa che crescono che possibilmente non deve avere un intervento continuo deve essere lasciato libero di crescere questa dovrebbe essere la filosofia che riguarda il verde e per quanto riguarda le priorità bisogna intervenire bisogna secondo me diciamo nell'immediato garantire i microinterventi di quartieri dove si possono dove si sono creati comunque delle criticità sempre questo comunque in armonia con quelli che sono i nuovi modelli di sviluppo i nuovi modelli di amministrazione e di governance come ricordava anche il collega del vecchio Davide intanto voglio fare così un rilievo nel senso che il giornalista Foghetti in questo caso da giornalista esperto ha posto una questione fondamentale ha risposto per noi tre in effetti hai centrato il problema in qualche maniera c'è una sinistra rappresentata da Fanese e una sinistra rappresentata da Merchegiani che parlano la stessa lingua ma che sono divisi e non solo in questa tornata elettorale sono stati divisi in tutti questi dieci anni di amministrazione diciamolo in maniera chiara e i risultati si vedono una città che è amministratata da persone che sono divise è una città divisa divisa sulle scelte e divisa sui rapporti all'interno della città su come viene gestito il verde a Fano Centro rispetto che a Carrara dove non c'è nulla come diceva Foghetti ed è vero e solo grazie al grande lavoro che fanno le associazioni del verde del quale anch'io faccio parte in quell'area riusciamo a mantenere ad esempio un verde pubblico bello e decente con una città bella ecco termino perché ho finito il tempo però voglio volevo proprio accentuare questa questa peculiarità di Fano questa divisione è presente dobbiamo fermarci per qualche istante e poi torniamo nei nostri studi tratteremo tanti altri argomenti dalla caserma Paolini gli impianti sportivi servizi alla persona rimanete con noi e siamo tornati negli studi di Fano TV per proseguire questa ottava puntata di Occhio al Voto e dunque andiamo avanti con le domande Sì parliamo di una cosa attualissima anche se è un problema che ci portiamo dietro da tantissimo tempo quello della caserma Paolini è stato dichiarato proprio nei giorni scorsi quasi che siamo arrivati a un punto d'arrivo nella conclusione dell'acquisizione della caserma Paolini allora io vi chiedo dato che dovrebbe formalizzarsi a giorni questa questione come intendete utilizzare la caserma pur sapendo che l'amministrazione comunale poi dovrà fare dei sostanziosi investimenti per riqualificare queste strutture che nel corso del tempo si sono degradate allora io direi di partire questa volta da Mattia De Benedittis allora per quanto riguarda la caserma Paolini bisogna comunque tenere conto che un'eventuale occupazione di tutti gli uffici significherebbe comunque dedicare poi lo stesso parcheggio a chi ci andrà a lavorare quindi sarà comunque una scelta molto importante e comunque da saper gestire saper portare comunque la città accompagnarla in questo cambiamento detto ciò sicuramente sarà oneroso dal punto di vista non solo economico ma anche proprio delle tempistiche che ci vogliono per questo tipo di interventi un intervento va benissimo insomma gli interventi che sono previsti come lo spostamento insomma di alcuni uffici comunali nell'immediato secondo me una proposta potrebbe essere quella diciamo molto più economica magari rispetto ad altre quella di coinvolgere anche il mondo dell'associazionismo noi abbiamo ancora la sofferenza dell'assenza di una casa delle associazioni abbiamo visto come l'associazionismo e l'associazionismo giovanile soprattutto sia molto presente molto dinamico nel nostro territorio e sarebbe secondo me importante nonché strategico dedicare alcuni degli spazi della caserma nell'immediato non in maniera definitiva però in maniera provvisoria così come è stato fatto altrove all'associazionismo in modo tale anche da accompagnare la stessa amministrazione e chi vorrà investire su quel territorio quelle che sono le potenzialità del luogo abbiamo visto anche con altri posti l'abbiamo visto con la Rocca l'abbiamo visto col Bastione l'abbiamo visto con tutti i beni mobili che sono stati riutilizzati attraverso i giovani che magari anche sbagliando creando però sono giovani è importante che sbaglino ma è importante che diano il loro contributo per far crescere la città e abbiamo visto che il valore aggiunto non è indifferente bene sentiamo del vecchio bene intanto è una buona notizia a prescindere come l'estate in passato è un po' che sentiamo e discutiamo della caserma Paolini mi sembra un po' di botto di fine mandato elettorale che arriva più per fare campagna elettorale che per altro però bisogna anche dire che c'è una legge nazionale che in questo caso è stata fatta dal governo di Giorgia Meloni Giorgia Meloni lo ricito perché ho visto che nel comunicato stampa l'assessore Cucchiarini non ha detto una parola sul fatto che se riuscirà a portare a compimento ma di certo non lo potrà fare lei lo farà chi verrà nella prossima mandato amministrativo se riuscirà è grazie a una legge che è stata prontata dal governo Meloni e che sta utilizzando in questo frangente per l'acquisizione quindi per riportare alla caserma Paolini alla città non viene citato casualmente lo cito io cosa farsi all'interno della caserma Paolini beh è un'area risorsa intanto va adeguato il piano regolatore secondo me perché l'ho detto anche prima un piano regolatore che non abbia una visione di città come non l'ha avuta la visione di città quel piano regolatore contestato peraltro anche dal attuale candidato sindaco Marchegiani poi dopo alla fine l'ha pure votato comunque in maniera contraddittoria però quel piano regolatore che non ha una visione non aveva neanche una visione per un'area risorsa come può essere la caserma Paolini non prevedendo affatto appunto il le possibili utilizzi che possono essere ovviamente tanti da uffici per il comune di Fano a caserma dei carabinieri a istituti scolastici ad associazioni anche di giovani benissimo a parcheggi perché poi uno degli elementi che bisogna sempre più incentivare anche attraverso dei multipiani non solo in quel luogo sono dei parcheggi per far vivere il centro e le zone mare nello specifico quindi sì un'ottima notizia un grazie al governo Meloni chi verrà mi auguro che saremo noi porteremo in maniera condivisa con la città un progetto specifico per quell'area Assessore Brunori accentiamo un pochino anche l'argomento tra il rapporto di investimenti e poi che cosa farci all'interno della caserma perché costerà parecchio per il comune non l'acquisizione ma la ristrutturazione degli edifici allora innanzitutto ricordiamo che c'è stato appunto concesso gratuitamente la palazzina quindi l'edificio che è prospicente agli allegramci che è uno dei cinque che è interessato all'interno dell'area e compreso anche il parcheggio appunto il parcheggio sarà una destinazione d'uso che è rispondente anche alla visione che abbiamo sempre avuto di città un parcheggio che sicuramente verrà esteso non solo su un piano ma che avrà anche un piano sotterraneo o superiore adesso dovremo valutare ma ricordiamoci anche che questo è frutto di un percorso che l'amministrazione ha fatto da tanti anni che ha fatto in maniera lungimirante perché inizialmente abbiamo avuto un dialogo anche con il Demagno che appunto per cercare di organizzare un sistema di progetto che riguardasse tutta la caserma e che avesse uno slancio culturale dopodiché c'è stato dato invece un taglio di concessione per fini istituzionali ed ecco per cui noi pensiamo di eventualmente trasferirci degli uffici potrebbe essere la polizia locale perché appunto si realizzerà domani la federiciana e quindi avrebbe un senso logico oppure potrebbe essere proprio tutto il mondo dei lavori pubblici urbanistica proprio per anche non disorientare più il cittadino che si deve ogni volta spostare e dislocare su più assi quindi che ci sia una rifunzionalizzazione rispetto ai servizi che sono legati all'attività amministrativa sì che ci sia anche un richiamo da parte nostra al Demagno un invito vero per cercare di realizzare una progettazione partecipata anche per tutta il restante dell'area di modo che ci darà un indirizzo sicuramente più concertato e puntuale quindi ecco vi sento di dire che la soddisfazione è sicuramente grande di fronte a un piano regolatore che ha avuto la più ampia partecipazione della città perché è stato lavorato in ogni singolo quartiere tanto che oggi viene a essere come dire redatto e presentato in funzione di quelle che sono state le proposte anche accolte tanto che sono stati voglio dire ci sono state tante richieste che abbiamo approvato non va beh allora recentemente il direttore dell'ufficio per l'impiego di Fano Luca Vergari ha dichiarato che per fortuna l'occupazione nel nostro territorio è aumentata questo in sintonia un po' con il trend a livello nazionale dove l'occupazione veramente è cresciuta tuttavia tuttavia che cosa accade accade che quasi il 50% delle richieste delle aziende rimangono in evase spesso però chi non trova occupazione origina dei problemi sociali quindi il fenomeno non è rilevante soltanto dal punto di vista dell'economia ma lo è anche dal punto di vista della sicurezza allora come secondo voi si potrebbero conciliare le due istanze perché chi non trova lavoro poi è portato un po' a deviare insomma a creare dei problemi sociali io direi che può rispondere per primo Davide Del Vecchio che ha ricoperto un ruolo importante nei servizi sociali ma è un problema sentito io sono anche un imprenditore quindi lo vedo anche in prima persona che manca sì una specializzazione in molti settori di tanti colleghi che sono presenti nella nostra città tante imprese che sono presenti nella nostra città e quindi sì c'è necessità di studiare mettersi a tavolino e specializzare soprattutto nel rapporto tra le istituzioni e la scuola in uno specifico studiare appunto dei canali formativi adeguati alle caratteristiche del nostro territorio che sono la nautica piuttosto che la metalmeccanica per citare due due settori ma che possono essere anche la zona portuale piuttosto che non so la zona che si occupa del legno ecco tanto per citare alcuni distretti che potrebbero nascere in città questo sì è necessario tanto più che ormai tutte le aziende vanno specializzandosi nei loro lavori non si fa più la roba tra virgolette alla cinese che costa poco e si manda all'estero ormai le nostre aziende le nostre industrie si stanno specializzando e stanno facendo prodotti di nicchia molto performanti molto dal punto di vista tecnologico molto accurati e importanti per cui c'è necessità appunto di trovare delle specializzazioni specifiche da parte della scuola e a ricaduto che vadano sul territorio c'è un grosso problema sì sociale beh ci sono tanti problemi sociali da questo punto di vista che può creare chi perde lavoro chi non lo trova peggio ancora o i nuovi arrivi che sono le persone nuove che sono arrivate nella nostra città che non hanno e non trovano lavoro non sempre questo è collegato alla sicurezza adesso diciamo i problemi della sicurezza in realtà sono altri sono la mancanza del controllo del territorio sono la mancanza poi di alcune politiche specifiche che in qualche maniera allontanino chi fa casino e da noi ce ne sono tanti anzi vengono accolti a braccia aperte da questo punto di vista quindi i problemi della sicurezza sono in realtà di andare a cercare in altri in altri ambienti Assessore Brunori gestisce anche la delega ai giovani e soprattutto si interessa anche per quanto riguarda la ricerca di lavoro con Dedalo mi sembra che è un ufficio di formazioni importanti nella Memo prego Assessore sì con il job abbiamo avuto a che fare diverse volte in diversi tavoli di lavoro a partire dall'orientamento scolastico anche nel lavoro estivo proprio perché spesso in tavoli congiunti anche con tutti i sindacati piuttosto che le associazioni di categoria si richiama il forte bisogno anche in questo periodo estivo di avere giovani che si mettono a disposizione decisamente dopo il covid sono cambiati i criteri proprio di selezione di quello che è il lavoro io sono mamma di tre figlie lo dico perché in casa ho tre ragazze e spesso le interrogo non solo loro ma anche i giovani essendo Assessore le nuove generazioni sulle motivazioni che portano i giovani in questo caso ad assentarsi dal lavoro che può essere periodale perché sembra quasi che ci sia una minor disponibilità su quello che è il periodo anche del fine settimana non è sempre così occorre di certo potenziare quello che è il sistema della formazione mettere a disposizione dei bandi dei finanziamenti che favoriscano persone che non sono solo giovani ma sono persone che purtroppo sono rimaste anche senza lavoro quindi sono più adulte che favoriscono delle nuove attività delle nuove start up proprio perché il covid ci ha cambiati ha cambiato anche la città cioè io se dovessi guardare la città dieci anni fa e ad oggi i bisogni della città si sono modificati e non possiamo far finta che questo non sia avvenuto quindi non occorre ricercare cose particolari ma creare sicuramente dei nuovi mercati ma allo stesso tempo delle nuove possibilità per far sì che le persone si possano applicare questo decisamente sì è chiaro che oggi ci sono delle situazioni che vanno anche normate in funzione di quelli che sono sia da parte dell'azienda che deve mettere dei guadagni adeguati e nello stesso tempo da parte del lavoratore che si deve mettere a disposizione con una disponibilità ahimè illimitata perché oggi per ripartire anche col mondo del lavoro ci vuole una condizione abbastanza valorosa e di impegno vero De Beneditis il lavoro è una parte integrante fondamentale dell'esistenza umana questo riguarda tutte le persone che hanno bisogno di crearsi una propria autonomia e quindi anche per le fasce più giovani che nel nostro paese come sappiamo hanno sempre avuto difficoltà nel crearsi questa autonomia le risposte sono sempre state un po' tiepide sono sempre state un po' tiepide anche perché come dicevo anche prima non c'è mai stata una prospettiva chiara che da parte dell'amministrazione pubblica prima di destra poi di sinistra io a suo tempo feci una proposta molto semplice ma veramente semplice ossia quella di istituire una giornata in consiglio comunale ossia il consiglio comunale monografico sul lavoro c'è bisogno che la classe dirigente la classe politica di questo di questo territorio si vada a interfacciare con quelle che sono le realtà del lavoro di questo territorio anche per capire quali sono le sfaccettature per capire quali sono le potenzialità da sfruttare e quali possono essere anche prese nell'immediato e quelle nel lungo periodo perché comunque la politica deve anche saper guardare al lungo periodo altrimenti ruba la paga detto questo è stato fatto questo assolutamente no questa proposta risale ormai al 2016 17 comunque insomma io ero in consiglio comunale sono passati quasi dieci anni e non si è fatto nulla dall'altra parte abbiamo visto abbiamo visto come abbiamo una classe politica che non è nelle condizioni di prendere queste decisioni allora che abbia l'umiltà perlomeno di confrontarsi con le realtà del territorio capire quelle che sono anche le nuove possibilità se non sono state comprese e da quella prendere le decisioni su che tipo di sviluppo economico che poi andrà appunto a garantire anche un tenore sociale che eviti anche situazioni insomma poco piacevoli passiamo ad un'altra ad un'altra domanda una domanda un po' che abbiamo ripetuto anche in altre trasmissioni agli altri candidati anche anche con voi dunque non può mancare una domanda sulla sulla fragilità sulle persone anziane sui servizi alla persona sull'assistenza domiciliare questo settore c'è ancora c'è ancora molto molto da fare come intendete appunto incrementare ciò che si è fatto fino ad oggi senza magari andare adesso a criticare quello che si è fatto ma quello che si può fare di più perché poi la realtà di tutti i giorni l'abbiamo tutti sotto gli occhi prego dire di cominciare dall'assessore Brunori allora che ci sia un bisogno di potenziare il servizio alla persona questo ne siamo tutti consapevoli e non è mai sufficiente perché chi vive in casa con una persona con disabilità o che non è autosufficiente vive davvero una situazione molto delicata e che è da comprendere questo purtroppo lo registro anche in base a conoscenze che ho da vicino che come amministrazione ci siamo attivati con la convenzione dell'ambito nel 2021 e quindi è stato migliorato un servizio sia ai disabili perché quantomeno è stato migliorato un servizio nella qualità e nella quantità perché essendosi esteso a un territorio di nove comuni interessati non andava più solo al comune di Fano quindi si è pensato di dare un servizio più compiuto e nello stesso tempo anche per le persone anziani non autosufficienti che appunto erano in casa magari senza familiari ricevendo un sostentamento quindi un aiuto da parte di un assistente piuttosto che un assegno proprio per riuscire alle persone che non avevano la possibilità di raggiungere dell'RSA un assegno per riuscire a mantenersi questo è chiaro che deve assolutamente essere potenziato noi siamo passati da un bilancio di 6 milioni e 100 a un bilancio di 12 milioni quindi si è raddoppiato capite bene che molti servizi si sono trasferiti nell'ambito e questi sono numeri numeri che non bastano numeri che sicuramente vanno migliorati anche la proposta di andare ad un'azienda autonoma ci vedeva andare in una direzione veramente di miglioramento di servizio alla persona qui non si parla di costi qui si parla di persone e quando si tocca il servizio alla persona non c'è numero che tenga non c'è strategia che è tutta una sperimentazione che si va proprio per andare ad ottimizzare quelle che possono essere delle prestazioni di servizio che vanno a dare risposta immaginate cioè immaginiamo oggi quante persone magari rientrano dall'ospedale le famiglie vengono ricondizionate all'interno del loro tempo nell'attività per dar fronte alla malattia De Benedittis ma sappiamo bene come determinate situazioni possano alterare la vita di una persona possono anche compromettere il percorso formativo e lavorativo di persone quindi continuare a investire in questo settore significa anche garantirsi meno investimenti meno spese su altri fronti certo è come è stato detto che sì gli investimenti sono sempre necessari io condivido appieno la proposta che abbiamo avanzato come coalizione dei progressisti su la prossimità da creare all'interno dei quartieri quindi a quelle che sono le realtà di comunità secondo me aggiungo questo aspetto dovremmo anche guardare con interesse quelle che sono state le sperimentazioni nel resto d'Europa e anche in alcune parti del mondo dove si fanno dove vivono diciamo in armonia in realtà dove le generazioni più piccole e le generazioni più anziane condividono gli stessi spazi e si fanno bene una vicenda io penso che abbiamo bisogno anche di questi nuovi modelli di sviluppo perché poi sotto certi aspetti possono essere anche diciamo meglio gestibili economicamente ecco quindi si va anche in quella direzione detto questo sì è stato fatto in questi anni non mi ha convinto diciamo il nuovo modello dell'ASPE che è stato presentato insomma di recente sempre per il problema della concertazione sempre per il problema della trasparenza stiamo comunque parlando di realtà molto delicate che vanno ai quali bisogna garantire un approccio altrettanto delicato purtroppo non sempre questo aspetto è stato condiviso noi ci prendiamo abbiamo nella insomma nella nostra coalizione importanti rappresentanze di questo tipo quindi insomma secondo me non potrebbe essere meglio sotto questo punto di vista la nostra coalizione intervento di Davide Delvecchio sì intanto è chiaro che è un settore strategico per il comune anche perché è uno di quei settori fondamentali nell'amministrazione comunale quello i lavori pubblici bilancio sono i tre settori cardine di un'amministrazione comunale quindi dove le risorse in maniera più importante vengono investite io ho avuto anche un ruolo da questo punto di vista in passato anche nell'ambito quindi conosco bene le varie sfaccettature la difficoltà a volte anche di rapportarsi però bisogna anche essere concreti e andare al nocciolo della questione chi quiunque qualsiasi famiglia fanese oggi voglia portare un proprio caro all'interno di una casa di riposo a Fano non trova posto se non dopo un anno un anno e mezzo chiunque abbia una all'interno del proprio nucleo familiare una persona malata di Alzheimer che è una tragedia familiare più delle volte piuttosto che con demenza senile oggi non trova nulla addirittura se non un centro diurno che inaugurammo grazie alla fondazione Carifano ormai più di dieci anni fa e in dieci anni cosa è stato fatto questo mi chiedo perché la esigenza aumenta non è che diminuisce ho visto studi fatti dalle Acli da Tomasini piuttosto che dall'università che hanno danno una prospettiva ancora maggiori prossimi anni di persone anziane che avranno bisogno di servizi che non possono essere solo quelli all'interno della struttura ma anche quelli a livello domiciliare quindi fatti all'interno delle proprie abitazioni e non possono essere l'unica soluzione oggi alternativa la badante che qualche volta diventa addirittura un problema per le famiglie per cui bisogna fare molto mi dispiace tantissimo mi piange il cuore proprio per dirla proprio con sincerità vedere che da questo punto di vista non è stato fatto quasi nulla e nonostante guardi abbia governato in passato il centro-sinistra e il centro-destra comunque i servizi del comune di Fano erano e sono stati sempre fiori all'occhiello nella regione Marche prese a riferimento anche a livello nazionale in alcuni casi come i servizi domiciliari ecco noi dobbiamo fare molto da questo punto di vista molto e mi auguro appunto che dal 10 potremmo riprendere quella strada benissimo cambiamo argomento siamo prossimi alla stagione estiva la stagione dei giovani la stagione delle vacanze allora come vedete Fano una località turistica di richiamo per le giovani generazioni quindi una città allegra vivace piena di vitalità oppure una città riposante per chi è in fuga dalle grandi città e vuole riposare vuole una vacanza tranquilla spesso però le due stanze sono a contrasto e propongono dei problemi anche importanti per esempio quello delle emissioni sonore in centro storico e in zona mare ieri mattina c'è stata proprio una nuova un nuovo incontro organizzato dal comitato del centro storico con i tre candidati e questo è uno dei problemi che è salito alla ribalta quindi secondo voi come vedete Fano una città allegra vivace sprint o una città invece un pochino più calma più tranquilla più riposante direi di cominciare da De Benedittis io penso che Fano possa garantire diciamo entrambe le cose personalmente ho sempre visto Fano come una città poliedrica una città poliedrica che possa garantire tutte le generazioni che debba garantire tutte le generazioni i più svariati settori e la dinamicità che fa parte di questa città una risposta sotto questo aspetto forse ce lo doveva dare anche il PRG c'è quello delle destinazioni più rivolte ai giovani e quindi quelle dove si potrebbe fare più chiasso personalmente ho sempre proposto insomma punti strategici in varie parti della città che possano essere riutilizzati dai giovani dico giovani ma in realtà insomma possi che possano essere aperti alla comunità perché abbiamo visto comunque come i giovani sappiano le associazioni giovanili abbiano saputo coinvolgere tutte le generazioni questo è importantissimo e proprio per questo io penso e sono convinto che non ci si debba escludere la vicenda io penso che la FA non sia una città riposante ma penso che sia anche una città che ha offerto e può continuare offrire eventi di qualità coinvolgimento di tutte le generazioni e sotto questo aspetto bisogna anche avere un po' il coraggio delle scelte perché è naturale che scegliere di vivere in una determinata parte della città come può essere il mare in centro significa comunque fare conti col fatto che in determinati orari in determinati periodi dell'anno ci possa essere un po' più di chiassi questo l'ho sempre sostenuto quando ero consigliere comunale ma l'ho sempre sostenuto perché penso che la politica poi debba dare attraverso la comunicazione anche l'idea della città che si vuole e personalmente mi sento di dover tutelare così come la città tranquilla anche la città che vuole movimento e vuole essere dinamica sì passiamo la parola del vecchio anche se parlare di inquinamento sonoro o di emissioni sonore a un residente di Carrara è un po' pleonastico però insomma credo che ne sappia qualcosa prego ne so qualcosa anche del centro e della zona mare in realtà però sì certo non vanno escluse le due parti è una città è una comunità e quindi vanno trovate le soluzioni per entrambe queste due caratteristiche cioè la parte turistica e la parte residenziale è chiaro che questo va fatto attraverso un disegno che non può essere altro che il piano regolatore che invece da questo punto di vista è completamente assente per non dire peggio che non ha manco preso in considerazione alcuni aspetti fondamentali come quello di ubicare o comunque trovare delle soluzioni appunto a chi venendo a fare il turista giustamente portando economia alla nostra città vuole anche divertirsi quindi fare anche tardi e invece la parte residenziale quindi i residenti che invece vogliono ovviamente essere liberi di poter dormire di notte e di non essere svegliati alle 4 ecco questo va contemperato ma ci vuole una visione di città per farlo non basta solo fare chiacchiere non basta solo fare il comizio nel periodo elettorale o l'incontro con i residenti gli ultimi tre giorni della campagna elettorale perché non serve a nulla sono promesse da marinaio quelle ma va impostato un progetto che serve appunto a rendere forte la città turistica perché su questo noi bisogna che ci puntiamo è inevitabile ma di contro cercare di fare progetti quindi iniziative che vadano incontro anche alle esigenze dei residenti bisogna contemperare essere un amministratore significa portare avanti esigenze di più persone di più livelli di interessi c'è stata una visione da questo punto di vista della città fino adesso no perché i vari comitati che sono nati in questi ultimi anni sono la dimostrazione del fatto che uno non c'è stata nessuna condivisione nei progetti e due non c'è stata neanche una risoluzione a questi altrimenti i comitati non sarebbero ovviamente nati e quindi sì bisogna rimettere mano a questa condivisione della città questa nuova visione della città e poi le iniziative se ne possono fare tante che contemplino appunto le esigenze di queste due parti della città se bisogna le lasciamo qualche secondo in più per recuperare gli altri ma correggo assolutamente l'intervento di Del Vecchio perché la modifica del regolamento della polizia urbana proprio legata all'inquinamento acustico è stata concertata non solo con i residenti ma con tutte le associazioni di categoria viene da un percorso che l'assessora Cucchiarini ha fatto anche l'assessora Fattori e l'assessore Lucarelli quindi voglio dire c'è stata un'attenzione massima da questo punto di vista è chiaro che la nostra è una città che ha una vocazione turistica familiare non possiamo paragonarci all'Emilia Romagna non siamo la città sotto quel profilo ma ogni volta che presentiamo degli eventi giovani funzioniamo basta vedere cosa è successo nel fine settimana con l'attività del Pitney Festival un nuovo diciamo esperimento per la città che ha portato tantissime persone non solo giovani che ha pensato anche ai bambini che ha pensato alle persone anche con disabilità che ha pensato a tutti basta pensare al Giro d'Italia basta pensare a Festival Passaggi basta pensare a tutto quello che di culturale si muove nella città ma basta pensare anche a tutte veramente le peculiarità che abbiamo come territorio tutte quelle aziende che producono dei prodotti a chilometro zero cioè noi abbiamo una terra che ha una destinazione slow perché quindi è leggera un cittadino che ci viene a visitare rimane entusiasta perché di certo non si lascia condizionare da rumoreggiare delle polemiche ma vede quello che effettivamente siamo e lo apprezza fortemente sa che è una città dove si vive bene si vive bene anche con i bambini perché siamo anche la città dei bambini non solo perché facciamo delle iniziative per strada ma perché abbiamo strutturato un progetto che sta cambiando la cultura della città e va in questa direzione e siamo sicuramente anche una città dove oggi bisogna aumentare gli spazi per i giovani un lavoro che abbiamo iniziato a fare anche grazie al riuso di tutti i beni monumentali che abbiamo aperto alla città ricordiamoci che dieci anni fa erano chiusi e chi li aveva tenuti chiusi era l'amministrazione di cui Del Vecchio oggi qui appunto rappresenta quindi mi sento veramente molto soddisfatta del lavoro che abbiamo intrapreso in questi dieci anni che vogliamo continuare Cambiamo argomento lo sport fanese ci sta regalando belle emozioni da ultima la Smart System che è stata promossa in serie A2 inevitabile quindi rivolgere lo sguardo anche a un nuovo palazzetto dello sport e in generale agli impianti sportivi un tema legato sia al settore turistico che a quello delle giovani generazioni delle società delle tante associazioni sportive del nostro territorio senza tralasciare il fatto che i grandi eventi sportivi lavoriscono lo sviluppo economico quale sarà il vostro impegno in merito Davide Delvecchio intanto bisogna fare le congratulazioni a questo successo quindi questo arrivo in A2 che ovviamente il comune di Fano dovrà prendere al balzo per costruire un nuovo palazzetto dello sport da 3.000 posti che sia compatibile con la terza città delle Marche dico lo ripeto con la terza città delle Marche che ancora non ha un palazzo sport nonostante ci siano stati i fondi del PNRR e non solo arrivati anche dal governo e dal CONI per poter realizzare impianti di queste dimensioni abbiamo ancora un impianto fatiscente in 10 anni non siamo stati capaci neanche di metterlo in progetto quindi sì sicuramente un palazzetto di questo tipo così come ci vorrà un impianto nuovo di calcio a 5 perché sta prendendo molto questo tipo di sport e c'è necessità di una struttura specifica per quel settore così come andiamo allo Stadio Mancini perché anche su questo si potrebbe dire molto sul fatto di come sia stato lasciato lo Stadio Mancini rispetto alle esigenze di una squadra che aveva degli obiettivi che ora non ha più purtroppo io mi auguro che venga rispettata e che la società possa tornare insomma a gioire però anche lì è stata lasciata sola una società lasciata sola non si è manco cercato di produrre creare un pool di imprenditori per salvarla e ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo con i tifosi tutti arrabbiati ma giustamente tra l'altro così come bisognerà coinvolgere tutte le società sportive del territorio e creare delle strutture che siano anche a loro utilizzo ormai chi cerca anche per i più giovani i ragazzini i pulcini gli esordienti che cercano strutture dove far giocare questi ragazzi non li trovo non ci sono è quasi impossibile trovarli così come invece lo fa in maniera amatoriale bisogna che per forza va in quelle poche che ci sono a pagamento per poter fare una partitella piuttosto che una partita di calcio 5 ecco le strutture sportive mancano in questa città e vanno realizzate Brunori lascio a lei la parola e quindi anche la possibilità di replicare a Del Vecchio tra l'altro anche in questo settore lei ha la delega certo la delega anche in questo settore riconosco un'eccellenza davvero a parte adesso la Virtus che sale in una serie per cui dall'anno scorso ero presente alla partita che abbiamo vissuto con grandissima emozione reduci di tanti sacrifici che la squadra ha fatto e che davvero merita non solo questa mi sento di assolutamente rinnegare quella che è la possibilità di non aver utilizzato finanziamenti ministeriali li abbiamo talmente utilizzati che li abbiamo messi a disposizione di un impianto Zengarini che invece andrà a riqualificare un'area di atletica che era in un stato fatiscente non solo l'andremo a riqualificare quindi a mettere a disposizione una nuova pista d'atletica ma andremo a realizzare anche un nuovo rettifilo quindi a dare la possibilità a questa società ma anche altri sport di poter fare sport al chiuso in un periodo invernale dove magari le condizioni climatiche questo non lo permettono andremo ad efficientare una tribuna che ricordiamo che fu realizzata non sicuramente nel nostro tempo e che fu non si poté come dire utilizzare proprio perché aveva delle condizioni di non sicurezza che abbiamo oggi messo in sicurezza creando anche dei nuovi bagni e oltre questo ci apprestiamo a realizzare un palazzetto un palazzetto dove ricordiamo è stata già fatta una variante quindi il posto si è trovato è vero che siamo arrivati lunghi la pandemia il susseguirsi di tante vicissitudini ci ha fatti arrivare lunghi un ritardo evidente ma questo non significa che non ci sia la volontà di realizzarlo che non ci stiamo già adoperando con una visione che forse magari ci farà aiutare anche da qualche altro imprenditore o con risorse nostre la volontà di realizzarlo c'è già oggi figuriamoci e di metterlo in campo domani proprio per far sì che ci sia l'ospitalità di tutte le società non solo anche la piscina di Nisalvalai avremo intenzione di rigenerarla smaltendo tutto quello che è l'amianto acquistandola dalla provincia perché non è un impianto nostro ma realizzando una palestra e così di realizzare palestre anche nei vari quartieri proprio perché ognuno ha bisogno di favorire la disciplina sportiva a più utenti possibili i ragazzi che ci possono andare anche in maniera autonoma chiudiamo questo giro con Mattia De Beneditti prego sicuramente gli investimenti sullo sport sono sempre stati importanti anche perché garantiscono anche investimenti più contenuti per quanto riguarda magari il sistema sanitario perché lo sport garantisce un corpo in salute e di conseguenza interventi su altri fronti non sarebbero necessari questo è importante che entri nella filosofia del buon amministratore detto questo interventi sono stati fatti adesso per un minimo di onestà intellettuale le requalificazioni degli impianti sportivi e la nuova piscina da qui a dire che non è stato fatto niente ne passa sicuramente è stato fatto un pochino di più rispetto a quanto era stato fatto nel decennio Aguzzi su questo non ci sono dubbi il punto una cosa che mi è sempre piaciuta del nostro territorio è la la sua versatilità nel fronte sportivo cioè non siamo la città di uno sport siamo la città che ha ospitato vari tipi di sport non solo la calcio la pallavolo ma abbiamo visto il frisbee abbiamo visto l'approccio al mondo del nuoto e veramente chi più ne ha più ne metta questo secondo me è una risorsa è un patrimonio importantissimo per la nostra città lo ha dimostrato lo ha dimostrato anche proprio nel contributo che viene dato negli eventi e secondo me può diventare una parte integrante dello sviluppo dei nostri dei nostri giovani entrare in sintolina con il mondo il mondo della scuola e perché no io penso che ci siano anche i presupposti per costruire un modello che possa funzionare non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo abbiamo tutte le carte in regola per gestire questo tipo di passaggio che veramente può diventare un volano importante non solo per la nostra città prego Massimo c'è anche da dire che il giro d'Italia è stata anche una bella molla per moltiplicare le asfaltature quindi c'è anche questa connessione con i lavori pubblici c'è chi vorrebbe che a Fano ci vorrebbe una tappa all'anno per movimentare un po' questo problema della cura e manutenzione delle strade come si può risolvere il problema della cura e manutenzione delle strade perché è un problema le strade sono tantissime e i soldi sono quelli che sono allora come fare secondo voi bisognerebbe ripristinare la squadra che c'era una volta che era interna al comune oppure moltiplicare gli appalti oppure predisporre un piano a rotazione ebbene a tutt'oggi questa giunta dobbiamo dire ha aumentato di molto gli investimenti sulla cura e manutenzione delle strade ma non è sufficiente perché poi le proteste ancora ci sono e le richieste sono tante allora ciascuno di voi cominciando con l'assessore Brunori chiedo qual è il futuro di questo settore per i prossimi cinque anni allora intanto mi piace portare un dato noi in dieci anni su 450 km di strade ne abbiamo asfaltate 220 e spesso quello che è il percepito non corrisponde poi alla realtà ma sapete perché non corrisponde perché ci siamo addentrati anche in quelle periferie sconosciute dove abitano pochi residenti e dove invece c'era una grande necessità perché erano persone che non avevano purtroppo neanche la dignità di riuscire a raggiungere le proprie abitazioni e dover lasciare l'auto a distanza ecco che siamo intervenuti veramente in luoghi che quanto spesso ci diciamo non andiamo in periferia anzi è stato proprio il contrario questa diciamo questa attività ci ha permesso poi di fare un'ulteriore scelta perché ci siamo a base di una funzione su strada che si chiama Facciamo Strada è un servizio di AVR che ci sono degli operai che in un'attività veloce diciamo che dovrebbe girarsi tra le 48 e le 72 ore dovrebbero intervenire rispetto a quello che è la segnalazione della buca che cosa è accaduto intanto che abbiamo dovuto mettere la regime perché rispetto un arretrato che avevamo di tante segnalazioni che erano fuori un po' fuori controllo secondo è un'attività che non solo fa ripare le buche ma che fa anche segnaletica e sistema anche i cordoli per cui oggi ha molte attività e seconda cosa oggi vengono utilizzati questo per un rispetto ambientale sempre nell'ambito della nuova sensibilità dei materiali che sono sostenibili quindi dei materiali che purtroppo con il primo temporale saltano dalla buca a prescindere da quella che sia la profondità che ci sia oggi che ci sia già un piano di esposizione nuovo di nuove asfaltature questo sì perché è già in progettazione solo da finanziare che riguarderà anche la parte più centrale della città che non è San Giro che naturalmente interviene ma è l'amministrazione che poi mette a dimora le risorse necessarie va bene passiamo passiamo adesso a De Benedittis comunque ci sono più i materiali di una volta De Benedittis sì prego ma allora abbiamo visto come generalmente un'amministrazione comunale che duri dieci anni tende a asfaltare se va bene più o meno la metà delle arterie che lo riguardano ciò significa che nel giro di un mandato ne asfalti più o meno un quarto sempre stando nei tempi nelle possibilità eccetera che magari erano molto più limitate anni fa ai tempi del patto di stabilità molto molto stringente su questo devo dire che voglio ringraziare anche gli uffici pubblici che hanno sempre saputo garantire gli interventi la mappatura sapendo anche intervenire secondo quelle che sono le esigenze le esigenze di un territorio questo al netto degli interessi che poi ci ha sempre messo la politica quindi è proprio su questo che bisognerebbe capire quelle che sono le esigenze del territorio a prescindere dagli interessi particolari gli asfalti appena fatti sono tutti bellissimi quelli fatti bene quelli fatti male quelli che riguardano le arterie diciamo più importanti della nostra città hanno bisogno di un intervento altrettanto più importante che riguarda le fondamenta del nostro territorio che sappiamo bene è abbastanza particolare cosa diversa accade per le altre strade dove insomma si sono fatti interventi più leggeri ecco su questo secondo me se si riesce a calendarizzare mappare monitorare bene il territorio le nuove tecnologie su questo ci aiutano secondo me si potrà garantire anche poi di conseguenza un investimento di riflesso da parte del privato che ci guarderebbe anche con maggiore interesse non dimentichiamocelo o altrimenti dovremmo portare ogni anno il Giro d'Italia nelle nostre strade del vecchio sì sicuramente il Giro d'Italia ha portato una novità fanno le strade asfaltate quello sì è stata una buona cosa ce ne vorrebbe come dice qualcuno una all'anno e in effetti il Giro d'Italia c'è una volta all'anno quindi si potrebbe fare come proposto al di là della battuta è chiaro che come diceva l'assessore le buche percepite o il sentimento percepito è diverso io in realtà non ho solo il sentimento percepito ma anche quello visivo del vedere buche ovunque chi veniva nella zona industriale di Bellocchi giusto per citarne una nelle aziende che venivano da fuori i clienti magari che arrivavano vedevano una situazione veramente indecente crateri più che buche e ne cito una di zona ma potrei citarle quelle periferiche dove abitiamo noi ad esempio tutte le zone periferiche di Carrara Cucurano è vero ultimamente hanno cominciato a fare in alcune strade a strade alcune asfaltature però come si diceva probabilmente quei materiali usati non sono eccellenti perché alla prima piovuta se non quando si coprivano i buchi perlomeno se non se non ancora prima ci ritrovavano di nuovo la buca quindi secondo me le asfaltature vanno fatte ma vanno fatte per bene ma vanno fatte il giusto livello di asfaltature ma anche rifatto il fondo laddove è necessario e bisogna fare un intervento di tipo strutturale almeno triennale cioè prevedere nei fondi dell'amministrazione comunale che ripeto l'ho detto prima non so più quelli di una volta perché c'è stato lo sblocco del patto di stabilità c'è il fondo del PNRR fondi disponibili dalla regione al governo che sono arrivati per le infrastrutture della città che possono liberare fondi all'interno del bilancio comunale quindi bisogna fare un intervento straordinario triennale almeno triennale nel quale si prevede di asfaltare molte più state di quelle che sono state asfaltate fino ad oggi tra l'altro asfaltate pure male che nel giro di un anno sono tornate come prima e quindi sì c'è bisogno di un intervento straordinario questo è quello che chiedono i cittadini e credo che una politica seria vada fatta accogliendo queste esigenze queste richieste siamo arrivati al termine anche di questa ottava puntata quindi saluto Barbara Brunori della lista noi civi che fanno Mattia De Benedittis del PSI Partito Socialista Italiano e Davide Del Vecchio di Fratelli d'Italia un ringraziamento come sempre a Massimo Foghetti grazie per essere stati con noi occhio al voto torna lunedì prossimo 27 maggio buona serata a tutti Grazie a tutti